L'eco dell'impresa di Vicenza e del ritorno in Aoro non si è ancora spenta, ma la Virtus Cassa di Risparmio di Lucca è già al lavoro per la stagione 2014. L'asse portante della squadra rimarrà ancora una volta improntato e incentrato sui lucchesi. In particolare Alessandro Orsi, Leonardo Mariottini e Francesco Niccoli sui 400, Marco Taddeucci nel lungo, Leonardo Monacci nel triplo, Vezio Bianchi nei 100 e Dodon e Marcelle nei 110 ostacoli, senza dimenticare atleti come Jacopo Marella, Matteo Bianchini e giovanissimo Alessio Gravina. Nel lancio di Martello nessun dubbio, ancora una volta affidato al capitano Emilio Filippi e Alexander Ciumagna. Nel salto in alto si punterà su lucchese Alessandro Cappuccio, primo anno nella categoria Juniors, e sul bresciano Michele Speri, mentre Stefano Borea rientrerà alla Libertas Runners Livorno. Novità anche nel settore mezzofondo, dove l'è riconfermato Andrea Giolitto e a Osea Chisorio Chimeli, fa da contro copertina l'addio, dopo quattro memorabili stagioni, di Ezekiel Chiprotti Chimeli, non per scelta tecnica, ma perché l'atleta, reduce da una stagione piena di problematiche fisiche, ha deciso di rientrare in Kenya per un lungo periodo. Infine il settore lanci, dopo il club, auspica un pieno recupero di Giacomo Puccini, mentre si accasano in altre società il discobolo Federico Pic e Salvatore Iaropoli. La Virtus punta decisamente sul campione italiano, categoria cadetti, Edoardo Bertolli, che nel 2014 passa di categoria tra gli allievi.